Proseguiamo con l'incontro dei 70 kg, valevole sempre per le panficazioni in MAP. Accordiamo all'Agro Blue, per il 6 d'accato di Lassisi, entra Gianluca Apostolico! Applausi 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 Grazie. 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 Un minuto. Viene di fronte. Frota lui. Si. Un minuto e mezzo, Sandro. Un minuto e mezzo, Sandro. Vediamo. 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 E vai. Vediamo. Vediamo. Vediamo, vediamo. Vediamo. Vai, Lutrino! Grazie a tutti. 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 Vai. 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 Grazie. Vince per decisione unanime, Alessandro Fileto! Ma dici due parole, sa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Webbi il suo titolo preguardo l'avere. Grazie a tutti. 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 Vi saluto. Grazie mille. Grazie.